ciao allora stasera volevo fare una cosa diversa perché volevo fare un qualcosa per aiutare a chiunque di noi ad andare a calmare la mente perché spesso tantissime persone mi dicono che è molto difficile per loro riuscire ad addormentarsi e che fanno fatica a dormire che comunque non hanno diciamo un sonno ristoratore e purtroppo è un problema di tantissime persone io mi prendono sempre in giro perché io dico che sono un po narcolettica nel senso che io basta che mi appoggio un istante e crollo e quindi insomma ho questa grandissima fortuna di riuscire a dormire in ogni occasione però non è per tutti così e abbiamo una vita molto molto stressante e anche se non l'abbiamo stressante comunque lavorare con la mente è un qualcosa che non è così naturale che non ci è stato insegnato quindi andare a calmare la mente la sera prima di andare a dormire è sicuramente un qualcosa che ci può aiutare ovviamente ci sono tantissime tecniche che si possono utilizzare per esempio non bere caffeina tè o mangiare cose che ci agitano insomma dal pranzo in poi non utilizzare se abbiamo problemi di sonno non utilizzare cose come il telefonino l'ipad o qualsiasi cosa che abbia una luce o la televisione troppo tempo prima a ridosso diciamo dell'andare a dormire non mangiare in modo pesante quindi insomma ci sono tantissime cose oppure non bere alcolici la sera perché anche quello è un qualcosa che agita il sistema nervoso e insomma se abbiamo provato un po tutte queste cose una doccia calda sicuramente è anche un qualcosa che può aiutare per andare a dormire è una cosa che utilizzo anch'io è una cosa che si dà ai bambini che è il latte caldo che ovviamente se uno non può bere il latte qualsiasi tipo di latte anche vegetale caldo ci può portare insomma a calmare lo fanno quei bambini e quindi diciamo ci sono tutte queste tecniche che si possono utilizzare ovviamente se regolarmente facciamo delle tecniche come per esempio anche lo yoga nidra o la tecnica che andiamo a fare stasera se lo facciamo regolarmente andiamo a riequilibrare il sistema nervoso e quindi sarà sicuramente più facile avere un sonno ristoratore allora che cosa andiamo a fare stasera stasera andiamo a fare la tecnica della delle narici alternate quindi la respirazione a narici alternate nadi shodhana ce ne sono tantissimi insomma varianti diverse andremo a farne una base e anche chi già la conosce è sempre bello farlo insieme quindi insomma chi vuole restare a fare questa bellissima tecnica che è una tecnica che va a calmare tantissimo la mente è una tecnica considerata di preparazione alle altre tecniche di respirazione proprio perché ci da un ci porta a ad andarci a rilassare e quindi adesso andiamo a fare insieme e vi guiderò io quindi insomma chi la conosce può iniziare se no come viene fatta praticamente viene portato il pollice della mano destra sulla narice destra mantenendo l'aperta e l'anulare e se vogliamo il mignolo sulla narice sinistra gli altri due possiamo appoggiarli sulla fronte e questo è diciamo uno dei modi più semplici per tenere le mani e ce ne sono altre insomma chi è abituato a fare un altro modo lo può fare un altro modo quindi questo è il modo pollice della narice destra e anulare e mignolo o anulare bassa sulla narice sinistra se ci pesa il braccio possiamo portare la mano sinistra a tenere il gomito destro ok da qui ci andiamo a portare come nella posizione di meditazione quindi schiena dritta spalle rilassate e possiamo chiudere gli occhi tanto devi seguire semplicemente le mie indicazioni non hai bisogno di guardare tanto mantieni semplicemente io toglierò un po le mani perché così sennò si copre la voce però tutti anni continua a tenere le mani sul naso quindi da qui andiamo prima con entrambe le narici a inspirare completamente con il naso e poi espiriamo completamente poi chiudiamo la narice destra e inspiriamo solamente dalla narice sinistra poi chiudiamo la sinistra prima ma la destra ed espiriamo dalla destra poi inspiriamo dalla destra chiudiamo la destra ed espiriamo dalla sinistra questo è un ciclo andiamo sempre a inspirare dalla narice dove abbiamo espirato quindi inspiriamo dalla sinistra chiudiamo la sinistra espiriamo dalla destra inspiriamo dalla destra inspiriamo dalla destra espiriamo dalla destra inspiriamo dalla destra espiriamo dalla sinistra e continua con il tuo tempo per alcune respirazioni si inspira sempre dalla narice da cui abbiamo ispirato schiena dritta spalle rilassate alla prossima inspirazione dalla narice sinistra lasciamo andare le mani quindi continua finché non arriverai a inspirare dalla narice sinistra e quando è finito semplicemente osserva e respira normalmente non sarò la differenza che c'è tra una narice e l'altra e osserva semplicemente il tuo respiro rimane in silenzio in ascolto e poi lentamente puoi aprire gli occhi ok questa è la tecnica delle narici alternate se vedi che hai bisogno di allentare un po' la mente tranquillizzare la mente in qualsiasi momento della giornata ma sicuramente la sera è una tecnica che rilassa tantissimo e che sicuramente ti aiuterà a dormire se non lo fa subito come dico sempre è importante utilizzare le tecniche regolarmente per vedere dei risultati turaturi perché magari lo facciamo una volta e dormiamo bene però poi abbiamo bisogno di continuare a farlo per fare in modo che sì il nostro sistema nervoso si vada a riequilibrare i nostri pensieri si vanno a rallentare e quindi sicuramente staremo anche meglio durante la giornata saremo meno stanchi perché la sera spesso siamo stanchi anzi nella maggior parte delle volte siamo stanchi non fisicamente perché la maggior parte di noi non basca la releveris tutti i giorni ma con la mente perché abbiamo la mente e i pensieri che vanno troppo veloci e quindi dobbiamo andare a rallentare ad abbassare le frequenze delle onde cerebrali e questo lo possiamo fare attraverso delle tecniche che ci fanno rallentare tra cui questa che abbiamo fatto stasera quindi grazie e buonanotte ciao